Musica Musica Oh ma che è il fumo? Oh ma che è il fumo? Ma dove c'è il fumo? Non c'è il fumo Correzione civile, falco del sud, vieni avanti Si, hai verificato un incendio, ho la testa guidata a Sinari di Pozzoli Va benissimo, arriviamo subito Ok, grazie Buon ordine F*** Dio! 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 Antonella! Quanto? E' svenuta, non respira. Saffalatore, qui mi serve una mano, c'è una persona che non si sente bene, mi servono gli attrezzi. Mi trovo a Via Fasano, all'altezza dell'Istituto Superiore. Vieni subito. Ok, arrivo subito, ti porto il pallone di Ambu. Guarda, 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 guarda. Guarda. Ragazze, spostate. Non la vedo io. Stai togliando, sei sto togliando, passa, 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 passa. Partecipa anche tu. E partecipa anche tu. E partecipa anche tu. Partecipa anche tu! Partecipa anche tu! Diventa volontario!